Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nomissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore CROATOMIST quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome ovvero CROATOMIST accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta shoppiate qualsiasi skin su Fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories quindi ragazzi grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi ma adesso godetevi questo fantastico video c'è un lama da me, mi sto scappando perché da me c'era un tizio col tac va a venire da te no, io voglio mandarti andata qua quello della che mi spara con le RPG non l'ho visto io non ho armi, sono morto io pure non ho armi mi scivino oddio questo c'è l'RPG eh vabbè non l'ho visto Lui non c'ha il cecchino e il RPG Ma Hunter dove l'ha trovata sta roba lui? No non lo so guarda la tre pump c'è Grazie PD Ti ho fatto un bel bagnetto mi dicevano Ma ha fatto uno scopo quell'orto Ah ma era Lily Andiamo a dire su di do il pump di do i colpi E ci puliamo la volo qua e andiamo a fedare Voglio fare 3 kill Cato per primo Ho messato 3 colpi Perché? Perché quel tizio stava in high ground Grazie Ti ho fatto uno Da sopra Ho tapato Fatti fatti flopper Fatti flopper Nonononono Rimani 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 GG Sì Che andiamo che non voglio prendere danni di safe C'è un medikit delle nade Quello che le possiamo prendere Dalle nade no Così Forse no Non lo so Io non lo so Prendo la canna C'è una nave eh? Oh sì 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 Vabbè prendila tu Hai delle splash Se te le vuoi fare Non so se sono warpper Non lo so ma Andiamo allora Sì 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 La patente qua La è giusta Vai proprio a cagare a guidare Io Vai col tuo bus Grazie alla fava Guarda qua In mezzo ai boschi qua Basta 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 Ho prima piedi comunque Beh per cambio qui di sì Cosa? Cosa? Perennemente dissato ragazzi C'è un mega lindo Fai Ecco Non lo so Anche il video Questo con lo spazio Mamma ma Domani mi è sudato Mamma ma Ma dopo un doppio attack Penso che sia una cosa più legale Mai vista Io ho Ma tu questo doppio spazio Guarda questo Ma è ma lo spazio Non passiamo No è worth invece No è worth invece Dammene una E io L'altro E' con l'altro Tu dici che non è worth Secondo me è worth Se prendiamo in sincrosi Questi si ci vogliono Un problema Un grosso Un grosso Vabbè no Non è un problema Possiamo aspettare Io sai quanti pesci ho Ne ho dieci Tu quanti ne hai Io ho cinque Io ho cinque dei medikit Ma i mini Sì ho cinque mini Vabbè Dammi qualcuno Venditi un flopper se vuoi Andiamo 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 dai Senso Non mi serve Perché Sprego Nei materiali Importanti Vabbè Io ho 1800 500 Ah allora dammi il mattone Solo mattone Legno nei 1000 Legno si Legno 200 Sì Allora stanno coetando Allora No perché l'hanno L'hanno eliminato Insta Ok Prendimi Che mazza abbiamo qua Sono sceso giugliacchi Mi sa No Devi andare più 106 Fianco Eh sì Andiamo dove scriverlo Sti cavolo di cecchini Ok Ok siamo Siamo in z Metallo e via Ok Ah guarda lì c'è uno da solo Lo vuoi WKare Così almeno ce lo togliamo Dalle scatoline L'hanno L'hanno fatto Vado io Tu rimani Ti rilaico ok Morto Stavo venendo da te Perché ho visto che Ma aveva Perché aveva anche lì lo spaz Capito Eh sì Tanto non ho perso nulla Aveva Gli altri stanno buscendo A noi? Eh sì Come? Materiali come stai messo Io c'ho 570 A 0 5 5 7000 Quello del metallo Non ti farebbe male Tieni Dove c'è il mio box Scusami E questo il mio box Oh capperini E quello a fianco Questo qua Ah vabbè Guarda Vai dietro Ok non so se Adesso non sono botta Che cosa potremmo fare? Cosa? Fili di Ai Ah sì Sì facciamo Olli di pesce Vinciamo di pesce Io c'ho 5 pesci 3 mediti Di sotto pesce Quindi Sì Possiamo fare? Uno potrebbe Uno potrebbe Bugliare E l'altro E l'altro Tipo Dato di pesce All'altro Questi stanno Tipo Girando Verso noi Sono nel bush Quelli Che li stanno Bombardando Bella Una bella Una bella Una bella Una bella 5050 Come la vediamo Ci andiamo Diretti Bisicisce Andere giù A Fare like Da qua Non conviene Cioè Andrebbe E' buono Per le strutture Ma spieghiamo Veramente Tanti maz Lo possiamo Fare Lo possiamo fare Se vuoi Però A un certo punto Uno scende E deve rafforzare Sopra Sotto Quindi lo possiamo fare Andiamo dove va Andiamo dove va Potremmo farlo Andiamo in metallo Facciamo però Tre layer E ne faccio due E tu ne fai uno Perché è più mazzina Vediamo Tu sei sopra Sì sì Sali sopra Io ho già fatti layer Non fare nulla Non fare nulla Non si fai mazza Sì Più che altro Io sotto Il rinforzamento A meno che non hanno un RPG Ma non ce l'hanno Perché sono confidente Shit ragazzi Aiuto Ma da dove Non lo so Guarda sti lord Dammi un medikit Dammi ne solo uno Tu bill davanti Io vi rafforzo Dai tranquillo Non mi ha preso Ah non mi ha preso Quanti mazzai? 800 in totale Ok Io ora scendo Va bene Vieni questi Ok Anzi non aspetta Tanto quanti ne hai di pesci? 8 Allora ti bastano Me li tengo io così posso bucchiare Ok Ok vai Uno l'ho acceso Va bene A domani Sono ben piacere Avervi qua con noi ragazzi Ciao Ciao GG